Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. Noi abbiamo voglia di aprire l'economia, le attività, i cantieri e abbiamo anche voglia di uscire dal calvario Covid. E non abbiamo voglia di perdere tempo con i Novax e con tutti gli sfrantumati d'Italia. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel tracciare il quadro della situazione epidemiologica nel consueto aggiornamento del venerdì, ha rinnovato ai cittadini della regione l'appello a vaccinarsi, anche in considerazione dell'imponente accelerazione dei contagi che si è già registrata in altri paesi europei e che presto potrebbe interessare anche l'Italia. Noi dobbiamo sapere che siamo in una situazione delicata, che riguarda in modo particolare le fasce giovanili, ma riguarda più in generale l'Italia. Voi avete avuto modo di vedere che siamo ormai circondati da paesi nei quali vi è un'esplosione, in qualche caso drammatica, di contagi. Perché, sottolineo il dato, che siamo circondati da paesi pienamente ormai travolti dal contagio. Perché nel giro di una o due settimane quelle situazioni sono destinate a verificarsi anche in Italia. E' vero che in Italia abbiamo più vaccinati, ma la percentuale di vaccinati in più che abbiamo rispetto alla Germania è del 10-15%, ma non è tale da bloccare la diffusione di un contagio di massa. Il governatore ha sottolineato inoltre come la Campania sia favorevole all'introduzione di misure specifiche per chi decide di non vaccinarsi. La Campania è fra le regioni che chiede misure rigorose, dure e specifiche nei confronti di chi decide di essere un creativo e di non vaccinarsi. Liberi tutti, ma liberi noi, di salvaguardare la nostra vita e quella dei nostri familiari. Io non credo che dobbiamo perdere più tempo con i no-vax. Guardate quando si parla un alfabeto che non è uguale, si perde tempo. Provate a immaginare se nel giro delle prossime due o tre settimane siamo costretti a richiudere gli alberghi, a richiudere i ristoranti, a richiudere i bar, a richiudere le palestri, a richiudere i teatri, i cinema. Sarebbe un disastro, ma è inutile raccontare queste cose a chi ha la testa dura e non ha nessuna intenzione di utilizzare la ragione. A questi dobbiamo dire semplicemente una cosa, la stupidità non è un argomento. Punto e basta, non perdiamo tempo. Grazie a tutti.